bentornati su my football jersey quella che vedete è la seconda maglia del belching in edizione fan edizione scusatemi la prima maglia l'avevamo già vista e trovate qui in alto la recensione cosa ne pensate della maglia devo dire fatta bene bello l'azzurro ma a mio modestissimo parere a me piace più la prima quella bordeaux sono curioso di sapere nei commenti se siete d'accordo con me vi lascio ora la parte finale in cui vedrete la vestibilità mi raccomando iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti qua sotto cosa vorreste vedere di futuro per oggi è tutto alla prossima